Amici di Youtube e di Instagram, buongiorno a tutti quanti, buon sabato, ci avviciniamo sempre di più al Natale, buone feste, innanzitutto auguri a tutti quanti iscritti al canale e non. Oggi si scende in campo una partita decisiva come tutte, perché l'Inter non può perdere nessuna partita, quindi è normale che ci siano certe pressioni. Ieri, ragazzi, di cosa parliamo? I chiacchieroni hanno fatto cagare a Salerno, meritavano la sconfitta, come sempre il culo li tiene in gioco, hanno pareggiato al 91esimo, grazie all'unico fuoriclasse che hanno, ovvero Olivier Giroud, che mette quella sponda lì per Jovic. Del resto un Milan che ha giocato praticamente 15 minuti finali di inerzia, con una reazione di nervi, non da grande squadra come dice il coglione di Bioli. E una salernitana che ha fatto la partita, che ha avuto il doppio delle occasioni del Milan, meritava di vincere assolutamente. Un gol, due gol fortuiti del Milan, quello di Tomori a culo, praticamente di testa, su un rimpallo. Il D.A., che ha giocato malissimo ieri, leader tecnico della salernitana, il giocatore che è tecnicamente più forte che hanno, si è mangiato un gol al sesto minuto, grosso come una casa, dove poteva già portarsi in vantaggio la salernitana. Occasioni su occasioni, il gol viene meritatamente di Fazio di testa, il Milan 0. Cioè, 0 idee, 0 niente, una squadra finita, ridotta all'astrico. Tomori infortunato sull'azione che porta al gol di Candreva e alla papera di Sniff Sniff, Mike Magic Mike, Magic White, Magnan. Che dopo la Magic White è un altro portiere, ma ovviamente non escono certe notizie perché, normale, i dirigenti pagano per non far uscire le notizie. Se fosse successa una cosa del genere all'Inter, sicuramente prima pagina, sicuramente avrebbero aperto un caso. Comunque, quindi Magnan, che quest'anno sta facendo veramente cagare, lo vogliono esaltare per le parate di faccia che ha fatto con la Fiorentina totalmente a culo. La salernitana era anche sfortunata ieri, meritava sicuramente la vittoria, poi c'è da contare che dovevano perdere contro l'ultima in classifica, senza D.A. praticamente, perché ha giocato praticamente il primo tempo quando non ha mai toccato palla. Con tutti i titolari, perché il Milan è sceso in campo con tutti i titolari ieri. Leao, assolutamente un separato in casa, è una crisi, perché ieri veramente stava giocando per la salernitana. Teo Hernandez, psicodramma, cioè proprio una roba vergognosa. Quindi è un psicodramma Milan, un Milan in crisi fino alla morte, che passerà questo Natale in crisi. Quindi una squadra finita, ma iniziata, che sta pagando ancora giustamente il culo di due anni fa. Quindi Pioli poi in conferenza stampa va a dire che meritavano di fare 5 o 6 gol, ma semmai la salernitana che meritava di farvene 7. Ma vabbè, dettagli. Quindi niente, insomma, culo Milan che doveva perdere e pareggia. E la salernitana perde due punti. La salernitana totalmente rinvigorita dopo l'arrivo di Sabatini, che doveva già fare punti a Bergamo, ma non è riuscita perché poi l'inserimento di Muriel dalla panchina ha portato poi la vittoria all'Atalanta. Comunque, i Gobbi stanno giocando, primo tempo, gol di Hildiz, è finito adesso il primo tempo. Insomma, lì su un mezzo regalo di Turati, che Turati veramente è tanto interista quanto però purtroppo scarso. Per Turati comunque, cioè, li vogliamo bene, grandissimo qua e nell'azzurro però lì, minchia. Ha fatto una mezza papera, forse un mezzo fallo anche di Milik, però non penso, dai, alla fine. Comunque, la solita Juve anticalcio, tutta dietro, insomma. Però, quindi, la Juve però comunque in vantaggio. Stasera, noi. Allora, l'infortunio, si aggiunge all'infortunio di Lautaro anche l'affaticamento muscolare agli aduttori per Dimash, quindi Di Marco, lo rivedremo anche lui nel 2024. Ovviamente sento veramente le peggio cose da parte dei Tristoni su tutti i social. Ah, ma la gestione delle energie di Lautaro è stata fatta in maniera indecente. Inzaghi deve andare, cioè, robe veramente dell'altro mondo. Critiche continue su Inzaghi, che non si capiscono, senza né capo né coda, perché devono, hanno sempre da dire, hanno sempre da rompere le palle. E vorrei ricordare a sta gente che Di Marco si è infortunato, ha avuto lo stesso infortunio identico a quello di Lautaro. Di Marco è da inizio anno, che comunque sta facendo una staffetta senza nessun forzamento con Carlos Augusto, quindi gestita al meglio da parte di Inzaghi, eppure si è infortunato anche Di Marco. Strano, eh? Strano, eppure invece ha giocato, praticamente ha fatto una staffetta corretta con Carlos Augusto fin da inizio anno. Contro il Bologna ha giocato 45 minuti, quindi vorrei vedere i fenomeni cosa dicono, perché ha giocato 45 minuti col Bologna e si è rotto lo stesso. Pensate un po', pensate un po'. Io l'ho detto, secondo me Lautaro doveva avvisare prima, doveva chiedere subito il cambio, invece lui con l'ultima palla addirittura va in spaccata a cercare di recuperare un pallone con già il muscolo forzato, quindi nel senso io posso capire che Lautaro comunque voleva rimanere in campo dopo il rigore sbagliato, perché se Lautaro segna quel rigore, l'Inter va solo 1-0, al settantesimo Inzaghi toglie Lautaro. Non è che c'è tanto da parlare. Ovviamente se Lautaro, capitano dell'Inter, leader dello spogliatoio, leader in campo, con una grandissima cattiveria, davvero numero 10, davvero capitano, sbaglia il calcio di rigore, è normale che Lautaro non lo puoi togliere. È normale. È normale. Poi, ragazzi, cioè, voglio dire, io lo capisco anche dal post che ha messo su Instagram, io voglio vincere tutto, ho capito cosa intendeva col vincere tutto. Quindi, lì, quella spaccata che ha fatto, poi, ne è anche la prova della sua cattiveria e della sua voglia di continuare a vincere con i colori del cielo e della notte. Però, ragazzi, nel senso, in Inzaghi non c'entra niente. Cosa vuol dire? Quando uno come Lautaro Martinez si baglia un rigore, non puoi toglierlo, punto, c'è poco da fare. Non puoi togliere, ma non perché non vuoi, perché lui non vuole uscire. Quindi, nel senso, critiche vergognose. Poi, ho sentito addirittura dire, no, però, con Conte non sarebbero successe queste cose, non è possibile. Allora, innanzitutto, se vogliamo dirla tutta, quando c'era Antonio Conte, Lukaku, pardon, l'infame, ha giocato 120 minuti contro la Fiorentina in Coppa Italia, quando eravamo agli ottavi. Quindi, ha giocato tutta la partita con il Milan in semifinale, ha giocato tutta la partita con la Juve, quindi, tolto vi pari di ritorno per la squalifica. Quindi, di che cazzo stiamo parlando? Cioè, non ho capito bene. Cioè, la gente ha la memoria corta. Comunque, niente, insomma. Non aspettano altro che affossare un mister che ci sta facendo togliere un sacco di soddisfazioni, che sta portando una squadra con un gioco che non si vedeva da anni. Poi, per loro, la mentalità vincente è quella di mettere le riserve contro il Liverpool, così ci concentriamo sul campionato, mettiamo tutte le riserve contro il Bologna per uscire da sta coppetta di merda. Quella, per loro, è la mentalità vincente. Invece, Inzaghi, che ha detto loro ha la mentalità perdente, anche con le riserve, stava facendo la partita contro un Bologna, che è la quarta forza del campionato. Quindi, vabbè. Secondo loro è così, ma, a differenza di ciò, stasera bisogna vincere. Quindi, va bene l'infortunio di Di Marco, va bene tutto quanto, però stasera non c'è un'assenza che ci possa impedire di vincere stasera. Poi, il Lecce, ripeto, non perde dal 5 di novembre. È una bella squadra, sicuramente. Banda, Piccoli, Strefezza, Christovic. È una squadra, è una bella squadra il Lecce, sicuramente. Però, noi siamo l'Inter, siamo in casa, davanti ai nostri tifosi, per salutare un pubblico che, veramente, per distacco è il migliore d'Europa, una squadra la migliore in questo momento in Europa e in Italia. Quindi, per farci anche gli auguri di Natale, per salutare la squadra dopo un 2023, veramente, che ci ha fatto sognare. Poi, per l'ultima partita di venerdì contro il Genoa, Amarassi, che è un campo non difficile, difficilissimo. Abbiamo sempre avuto problemi Amarassi, noi, perché la due anni fa pareggiammo 0-0 col Genoa Amarassi, l'anno scorso 0-0 con la Sampa Amarassi. Tralasciando il campo che è ostico, il Genoa, quest'anno è una bella squadra, ma lo sappiamo, sono tutte... ma il Genoa, io lo dico da inizio anno, che ha raccolto molto meno di quanto ha seminato. Complice la ladrata delle merde al Ferraris con il gol di Avambrascio e di Pulisic. Hanno pareggiato contro i Gobi, meritavano di vincere. Gli manca un rigore al Genoa, quindi, ripeto, è stata defraudata da Milan e Juve. Meritava sicuramente più punti. Hanno fermato tutti in casa, hanno pareggiato col Napoli, hanno vinto con la Lazio all'Olimpico, però... Quindi, ripeto, hanno vinto 4-1 con la Roma, il Genoa è una squadra da tenere sotto occhio, poi non so se ritorna anche a Reteghi, non spero di no. Quindi, insomma, sono due partite difficilissime, certo sì, però siamo l'Inter e non dobbiamo fare questi calcoli, perché siamo una grande squadra e le grandi squadre scendono in campo per vincere. E secondo me si possono fare tranquillamente 6 punti in due partite, io tanti direi no, però, anche se ne facciamo 4 in due partite, complice la situazione in cui siamo, mi accontento lo stesso. Invece no, perché comunque, 4 punti vuol dire che almeno in mezza squadra fuori. Abbiamo due infortunati, Carlos Augusto ha risposto benissimo nelle partite in cui è stato chiamato in causa, ha segnato col Bologna, gol meritatissimo, dispiace, che è arrivato comunque in una partita che ci ha portato all'eliminazione, perché Carlos Augusto sta facendo un inizio di stagione veramente di grande carattere, anche quasi inaspettato, perché sapevamo tutti fosse forte, però non con questa personalità, non con questo carisma, con questa lucidità, con questa tranquillità negli inserimenti, negli interventi. Quindi, sono contentissimo che abbia segnato, però ecco, mi dispiace, perché ha segnato in una partita dove siamo usciti. Ecco, però, Carlos Augusto sta risponendo bene sul campo. Davanti, sicuramente, Arnautovic in queste due partite deve dimostrare di più, perché fino ad adesso Arnautovic non ha dimostrato di valere i 10 milioni che l'abbiamo pagato, e non ha dimostrato di essere una terza punta che può, perlomeno, ma dico perlomeno, essere paragonata a Turam e Lautaro. Quindi, nel senso, stasera e venerdì, Arnautovic non è che può, deve sbloccarsi, deve fare la prestazione, anche in termini di assist, Arnautovic deve dare una risposta sul campo. Quindi, il centrocampo è quello titolare, la formazione è quella titolare, Bissek ancora titolare, Pavard parte dalla panchina, quindi, mi aspetto una risposta di carattere, soprattutto da parte di Arnautovic. Quindi, ci sarà Turam titolare, Marcus, salvaci tu, e a centrocampo, comunque, è il centrocampo titolare, quindi, la partita, se si vince, si vince come sempre a centrocampo, e il centrocampo è quello titolare, è quello, della fantastica prima parte di stagione, quindi, forza Inter, forza Simone Inzaghi, forza ragazzi, e tanta gente che chiaramente si riempie la bocca di merda, perché, devono per forza dare colpe a qualcuno, se no non sono contenti, quando le colpe in realtà, non ce le ha assolutamente Simone Inzaghi, sulla gestione dell'energia, che è stata ottima contro il Bologna, Di Marco si rompe, non di certo per la partita contro il Bologna, perché ha giocato 45 minuti, Lautaro non si rompe di certo per la partita contro il Bologna, perché dopo che sbaglia il rigore, uno come Lautaro vuole rimanere in campo, sente tirare prima il muscolo, aspetta a chiamare il cambio, lì sbaglia lui, ok, non è per colpevolizzarlo, però, comunque, cioè, nel senso, io posso capire che lui vuole vincere tutto, però senti tirare, chiama subito il cambio e basta, non è che ci vuole un genio, del resto, niente, quindi, ho sentito poi i coglioni dei milanisti ieri, che volevano il rigore lì sul braccio di Fazio, e, ho sentito, ah eh ma, fosse successo all'Inter, gliel'avrebbero dato subito, grandissima stronzata, perché noi, a Roma, con la Lazio, ci manca un rigore che grida vendetta, su Gila che stoppa la palla di avambraccio, ok, è scandaloso, è scandaloso, ieri gialli, regalati alla Soternitana, come sempre, cardinale league, nessuno ne parla, perché? Perché fa più notizia la marotta league, perché devono cagare il cazzo sempre ogni volta, ma dopo che tu pareggi e meritavi di perdere contro l'ultima in classifica, che è senza D.A., che è praticamente infortunato, ha giocato se va bene 15 minuti, con una squadra, con una curva che era in protesta, con il Milan piena, con la formazione di tutti i titolari, tutti i titolari, di che cazzo stiamo parlando? Andate a nascondervi, topi di merda, perché tanto, ripeto, il vostro trofeo di quest'anno, sapete qual è? È quello di aver battuto il Bologna, solo quello è il vostro trofeo, il vostro trofeo vero è quello, di vedere l'Inter eliminato dalla Coppa Italia, come l'anno scorso, quando Rodi ha segnato il gol, che siete usciti dai tombini, dalle fogne, quindi, ripeto, quest'anno, aprite pure i tombini, tanto non ci dovete rompere il cazzo, perché l'unico trofeo che vincerete quest'anno, è l'eliminazione da parte del Bologna, appunto, quello è il trofeo che vincerete, perché siete inferiori, complesso di inferiorità da quando siete nati, c'è poco da fare, ci potete solo fare i chinotti, perché quello siete, una squadra di ossessionati inferiori, da sempre, amala sempre, sempre forza Inter, un bacione a tutti e forza ragazzi, stasera dobbiamo vincere, ciao ragazzi.